Tu ne vedi tante di foto, no? Quali sono le tue preferite? Quali sono? Questi. Cosa sono queste? Questo è superiore. Perché ti piace questa? Perché è un bello lavoro. Anche le foto non so male. Wow, guarda qua il livello di dettaglio. Le luci sono importanti anche quando fai la foto. Quante luci metti? Due o tre luci. Come le metti? Due dalla 45 gradi e uno di... Frontale? No, non frontale. Posteriore? Sì, posteriore. Perché posteriore? Perché non permette di fare la luce più morbida. Fa la luce più morbida? Sì. Quella posteriore? Sì. Ma non sono photoshopate? No. Cioè sono così come le vedi? Sì, come le vedi sono così. Già ho fatto qua un po' di clarity e shadow. Le ombre hai tolto? Sì. Per i denti sono... Prova ad andare avanti, fai vedere. E anche questa molto bella come foto. Questa è sempre superior? Sì. Guarda qua il livello di dettaglio. Guarda qua questo canino. Perfetto. Mettine altre. Sono protesi d'autore questi ragazzi. Ne vedi foto così belle online? Cioè dico, vedi i siti web dove ci sono foto così belle? Sì. Ci sono? In altri... Per l'indicazione? Per noi sì. Sì. Tipo queste che livello sono? Da 1 ai 10? Ah 9. 9? Anche 10. Guarda qua il livello di dettaglio di questi incisivi. Vai avanti ancora? Oh, guarda qua. I pazienti si sentono un po' delle star quando poi fai le foto con loro? Si sentono bene. Fai vedere un attimo? Metti foto con i pazienti. Ne hai? Diciamo di... Eh vabbè, lui è un classico. Dario è un classico. Sì. Vabbè, metti Dario così lo salutiamo anche nel video. Dario è tornato da poco. Faccio un grande saluto da tutti. Ora apriamo le tue fotografie. Vediamo se troviamo quelle con i dottori. E voi ragazzi come state in Italia? Che vi dicono? Che vi dicono in Italia? Qua è tutto ok. In Moldavia e tra poco, nel 13, arrivano un sacco di pazienti. E anche per Pasqua penso che saremo più di 60 persone qua in Moldavia. Perché hanno veramente prenotato in tanti. Apri le tute. E questo è un bel caso. Questo è veramente un bel caso. Grande Dario. Grande e bella persona anche, devo dire. Siamo fatti una bella chiacchierata in aereo l'ultima volta che siamo venuti qua. Guardate qua che sorriso. Ringiovanito di almeno 10-15 anni. Cambia molto il sorriso una persona. Vai avanti ancora. Guarda qua che denti. Si sono i denti di Dario. Sono contento che una persona così bella si becca dei bei denti. Complimenti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro su di lui. Bravo Dario. Io vi faccio un saluto ragazzi e ci vediamo qua a Chisina.